La procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio e sequestro di persona contro i gnoti per la scomparsa di Isabella Noventa, la donna di 55 anni, residente ad Albignasego. Un caso avvolto sempre più nel mistero, ma gli uomini della squadra mobile di Padova stanno indagando a tutto spiano. Gli investigatori non tralasciano nulla, stanno scavando nella vita della donna la ricerca di elementi che possano essere utili, capire chi frequentava, dove andava, che vita conduceva. Questo dovrebbe servire a trovare qualche dettaglio. Più volte è stato ascoltato dai poliziotti Freddy Sorgato, un amico con il quale Isabella si frequentava. L'uomo, residente a Noventa Padovana e insegnante di ballo, ha raccontato come i due hanno trascorso la serata fino alla scomparsa della 55enne. Le deposizioni non avrebbero mai cambiato versione, pare, e anche gli elementi forniti coinciderebbero con quanto ammesso, ma qualcosa non torna. La donna si sarebbe dovuta incontrare con un'amica, una persona che al momento però risulta fantasma per tutti quelli che conoscono Isabella. Intanto i vigili del fuoco hanno dato avvio alle ricerche nel fiume che passa proprio nella zona di Noventa.